Sono Michele, venite sul mio canale, continuiamo con Cala Dunti, Forza Andù, 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 Dmz. Siamo atto Dmz. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 attenzione ultra 1 la minaccia nemica è elevata preparatevi allo scontro che pure legato mi hanno beccato ma che cazzo non ce la faccio più mi servono due andrà tutto bene e sparo nel osso merda perdo troppo sangue a riparo mi hanno fermato non temere scurrere che c'è Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Sono arrivato! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 qui. Grazie a tutti. 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 e riscuotere la taglia vado qui mi hanno beccato mi hanno beccato preparatevi allo scontro i suoi 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 Mi sparo dal dottor! Cessare il fuoco! Subito! Ultra 1, sciacallo è eliminato. Prendete l'equipaggiamento che vi serve. Ultra 1, venti sempre più forti. Procedere con l'estrazione. Ultra 1, avete preso una piastrina. Ora quella squadra nemica vi starà addosso, in campana. Ultra 1, sappiate che quella piastrina vi rende visibili agli operatori nemici. Tenersi pronti. Vado qui. Raggiungo questa zona. Capo a Ultra 1, voglio un perimetro intorno al sito. Segnale in via d'acquisizione. Capo a Ultra 1, minaccia nemica moderata nell'area. Vado qui. Ultra 1, vi segnalo dei rinforzi nemici in arrivo. Grazie. Una. 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 Moch. Un di. Si, la via d'acquisizione. Un di. Un di. Un di. Un di. Un di. Un di. Ecco il punto di estrazione. Ultra 1, il segnale da rinforze nemici in arrivo. Ho degli oggetti di valore. Ultra 1, minaccia nemica moderata vicino a voi. Ultra 1, l'estrazione sta arrivando. Oggetto di valore qui. Ultra 1, Tilo 4 in arrivo per l'estrazione. Le radiazioni avanzano rapidamente. Non avrete molto tempo. Oggetto di valore qui. Oggetto di valore qui. Capo a Ultra 1, le radiazioni avanzano rapidamente. Muovetevi verso un punto di estrazione. Zona di estrazione marcata. Stazione di acquisto marcata. Tilo 4 è al punto di estrazione. Non possiamo restare qui per molto. Il nostro UAV è in sorvolo. Ultre 1, l'estrazione sta arrivando. Ultre 1, Quintino 4 in arrivo per l'estrazione. Pronti a muovervi. Ultre 1, minaccia nemica minima nell'area. Ultre 1, minaccia nemica minima nell'area. Tilo 4 è al punto di estrazione. Tilo 4 è in attesa all'estrazione. Quintino 4 è al punto di estrazione. Obiettivi e personali recuperati. Quintino 4 è al punto di estrazione. Quintino 4 è al punto di estrazione. L'ha trên clare. Quintino 4 è al punto di è finito. Quintino 4 è al punto di estrazione. Nel movimentaleanship. Grazie a tutti. 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 Mi hanno... Marco... vedo... ... 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 c'è un'altra partenza di bombast Sì, è vero. Ok, non è vero, non è vero. Grazie a tutti. 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 Un compagno passa a un altro team. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 No. No! Non spararmi! Guarda dove spari! No! Non spararmi! Fuoco amico! Cazzo! Oh no! Non spararmi! Oh no! Non spararmi! No! Non spararmi! Oh no! Oh no! Grazie a tutti di essere stati qui con me! Buonanotte! Buonanotte!